Hanno protestato lo scorso 8 marzo davanti alla sede dell'Inps di Isernia. Parliamo degli ex dipendenti TR per i quali dopo quell'incontro si accende la speranza di ricevere le aspettanze arretrate relative agli ammortizzatori sociali. Pare abbia portato i suoi frutti l'incontro che lo scorso 8 marzo gli ex dipendenti TR, capitanati da Emilio Izzo, hanno protestato davanti alla sede dell'Inps a Isernia. Dopo quella manifestazione, infatti, i lavoratori sono stati ricevuti dal direttore provinciale Antonio Pezza. A rendere noto l'esito dell'incontro, proprio il portavoce dell'Assemblea Permanente ex lavoratori in lotta. Dopo averci ascoltato con attenzione e direi con partecipazione, spiega Izzo, il direttore dell'Istituto è entrato immediatamente nel merito della questione, rassicurando i presenti sulla ripartenza di una procedura che, a nostro avviso, si era stranamente interrotta. Infatti, il dottor Pezza ci ha tenuto a precisare che, prima di incontrarci, aveva sentito per le biebrevi il direttore regionale del medesimo istituto, dal quale aveva ricevuto garanzie sull'invio a Roma al Ministero competente del carteggio richiesto alla Regione Molise. Dopo aver tentato di spiegare la contorta procedura non dipendente dalla sua discrezionalità, continua il portavoce, ha rassicurato che, a meno di ulteriori imprevisti e ostacoli di natura burocratica, i lavoratori potrebbero ricevere le spettanze entro i primi giorni di aprile, anche in considerazione del fatto che, come istituto periferico previdenziale, tutto è pronto, fino anche a una task force predisposta ad hoc. Infine, già il giorno successivo all'incontro, il dirigente ha confermato l'invio, avvenuto a due giorni dalla protesta da parte della Regione, della famigerata documentazione al Superiore Ministero, così come da lui riferito nella riunione dell'8 marzo. Resta da comunicare, conclude Izzo, che abbiamo ricevuto telefonicamente un positivo riscontro dal Presidente della Regione Frattura, sulla possibilità di un tavolo per la prossima settimana con gli ex lavoratori per concordare le strategie da mettere in campo per velocizzare l'iter.